Buonasera, 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 buonasera. Povera Papri era anche citato nel libro. Esatto, è una delle canzoni che io ho utilizzato per introdurre i capitoli del libro. Io sono molto legata alla musica in generale, ascolto praticamente tutto, dall'heavy metal alla lirica. Chiaramente i cantautori italiani sono stati una parte importante della mia formazione e tra questi Franco Battiato ha scritto alcune tra le canzoni più straordinarie della storia della musica italiana. Povera Patria sicuramente è una di quelle. Abbiamo pianto tanto su Battiato, anche sulle canzoni d'amore. Guarda, io credo che Battiato abbia scritto la più bella canzone d'amore che sia stata scritta mai che è La Cura. In assoluto lo penso da quando l'ha scritta praticamente. Per cui sì, anche sulle canzoni d'amore. Invece questa, Man in the Mirror, è una delle sue canzoni preferite, sue di Giorgia Meloni. Beh, io da bambina, proprio da ragazzina. Allora, perché la mia star di riferimento della mia primissima adolescenza fu Michael Jackson, per l'appunto, la più grande artista pop della storia, voglio dire adesso, senza timore di smentita. E tra tutte sì, Man in the Mirror è una bella canzone. Dice fondamentalmente, se vuoi cambiare il mondo parti da te stesso, fai la differenza. Quando si guarda allo specchio, Giorgia Meloni vede più la parte emotiva o la parte razionale? Vede più il cervello o il cuore? Questa è una bella lotta. Nel senso che io sono una persona estremamente razionale. Logica, ecco, più che razionale, sono una persona molto logica. La mia vita è tutta una questione di logica. Dall'ordine al lavoro, alla determinazione. Cioè, io sono una persona logica, razionale, però ho anche una, diciamo, spiccata emotività. Particolarmente da quando sono diventata madre. Questa roba, come su tutte le donne, è impattato in maniera tragica. E, diciamo, secondo me, alla fine, l'ho scritto anche nel libro, il cuore vede meglio degli occhi, no? Quindi, se tu riesci a vedere le cose... L'intelligenza emotiva, per cui ha una parte fondamentale. E il cuore, insomma, quello che ti fa battere il cuore, tendenzialmente, tu non devi mai voltare le spalle a quello che ti fa battere il cuore. Io sono Giorgia, le mie radici, le mie idee. Io comincerai dall'inizio, da quella ragazzina imbronciata, dallo sguardo spesso corrucciato, un po' ombrosa, cicciottella. C'è questo passaggio molto interessante del libro. Ecco la quella ragazzina un po' imbronciata, però un po' azzurro. Poi parleremo anche del perché, forse anche era imbronciata, ma insomma... Però questa cosa mi ha colpito molto. Però questo fatto dell'essere imbronciati, in verità, è proprio un fatto di postura. Cioè, io ci discuto spesso, l'ho scritto con la russa, su questa cosa. Lui dice, andami a ridere di più, no? Ma in realtà, poi ecco, tutte le foto che io ho da bambina, ho quella faccia lì. E ancora adesso, effettivamente, quando io sono concentrata su qualcosa, se sto pensando a qualcosa, la faccia è... Per cui, effettivamente, sembro sempre arrabbiata, ma non sono una persona sempre arrabbiata, giuro. Però, diciamo, quando sono assorta, sì, la faccia si chiude. Cioè, la cosa che mi ha colpito di questo, del racconto dell'infanzia da bambina cicciottella, che a tanti di noi è capitato, no? Bambina cicciottella va sulla spiaggia, chiede, posso giocare a pallavolo? Pallonata in faccia. Pallonata in faccia. Però la cosa non è tanto quella che purtroppo è successa a tanti di voi, è tanti di noi, è la reazione. Cioè, lei dice, io ringrazio i miei nemici, perché grazie a loro sono dimagrita e, appunto, ho perso 10 chili in tre mesi. Ecco, ma perché le cattiverie degli altri le hanno aiutate a essere migliori? Ci aiutano a essere migliori? Se sai reagire, sì. Se, diciamo, se non scappi, sì. Io penso che i nemici, tutti i nemici, abbiano un'utilità. Che non è necessariamente, voglio dire, non devi essere come vogliono gli altri. E io non ero in pace con me stessa quando ero cicciottella, no? No, perché il tema è dire a qualcuno, cioè, è come dargli ragione, no? Perché poi lei non pensava in quel momento che Giorgia valeva anche se era sovrappeso? Certo che pensavo che volevo, anche se ero sovrappeso, ma non ero a mio agio sovrappeso. E quindi è stata una scintilla che mi ha aiutato a impattare un problema che io avevo. Che vuol dire, quello che stavo dicendo prima, non significa che chiaramente uno deve essere come vogliono gli altri. Per cui se ti dicono, non lo so, sei brutta con i capelli lunghi, te li tagli. No, però in alcuni casi, diciamo, se tu sai volgere positivamente anche la cattiveria degli altri, può essere uno sprone. I nemici hanno un'utilità sempre, perché possono darti... Allora, puoi scappare o puoi decidere che impatti, che hai ancora più coraggio, che ci metti ancora più forza di volontà, che dimostrerai ancora di più quanto vali. E in questo è certo che hanno un'utilità. Per tutta la vita gli nemici per me hanno avuto un'utilità. Io per tutta la vita mi sono... Faccio politica ormai da 30 anni, per tutta la vita mi sono messa seduta e mi hanno guardato tutti dall'alto in basso, perché ero di destra, ero una donna, ero pure giovane, quando ho cominciato adesso no. Dai. Disse quattro cretinate. Oggi dicono la Meloni è preparata, ti credo. Le è capitato di essere scavalcata da un uomo meno brillante di lei? E come hai reagito, se è capitato? No, non mi è capitato. Non che se ne sia accorta. Io oggettivamente sono, a questo punto di vista, una donna tipica, ho bruciato tutte le tappe che si potrebbero bruciare. Sono una leader di partito, presidente dei conservatori europei, più giovane ministra. Sono presidente di qualcosa da praticamente 20 anni, per cui obiettivamente no, non mi è capitato spesso. No, era una curiosità. Però ci ho messo tanto, nel senso ci ho messo tanto lavoro, tanto lavoro, tanta dedizione, cioè il potere, tra virgolette, se volessimo semplificare, secondo me si esercita soprattutto con l'esempio. Cioè devi dimostrare di essere più bravo, devi fare dieci volte quello che chiedi agli altri di fare. Io sono una persona molto rigida, per esempio, con tutti quelli che lavorano con me. Nel senso non sono rigida, però sono pretenziosa. Sono pretenziosa e sono più brava a dirti se hai sbagliato qualcosa, piuttosto che se l'hai fatto bene. Se l'hai fatto bene per me è la normalità. Sua mamma faceva lo stesso con lei? Sì, mia madre è peggio. Cioè? Beh, mia madre, tu tornavi con la pagella, con la media del, non so, dell'hot and man, del 9. Gli altri prendevano 6 in matematica e gli compravano i motorini e mia madre arrivava e ti guardava la pagella. Sì, sì, hai fatto la parte del tuo obbligo. E questo le dispiaceva da bambina? Da bambina sì, adesso la ringrazio tantissimo per come mi ha cresciuto. Anche se effettivamente mi ha dato questa no, la dimensione mia del 9 è la parte dell'obbligo tuo, per cui già al 7 dici, oh Dio. Per cui io quando va tutto benissimo sono serena, non felice, serena. E quando va malino moriremo tutti, è il mio slogan, no? Cioè qui è una tragedia. Da questo punto di vista diciamo non mi ha aiutato questo principio di rincorrere la felicità. È ancora così? No, adesso si sono invertiti i ruoli. Quando è scattata questo elemento che per molte noi donne, figli e femmine succede, no? Cioè a una madre che ti chiede delle cose, no? Più punitiva che incoraggiante o più diciamo più richiedente che non appunto quanto sei bella quanto sei brava. Ecco succede a molte figli e femmine. No, allora mia madre quanto sei bella quanto sei brava, proprio quanto sei bella poi. Mai? Quasi, no, nel senso lei è una che diciamo si concentra soprattutto su quello che non va. Per cui, ancora adesso, ma anche questo mi pare che l'ho scritto. Come si chiama Anna? Salutiamo mamma Anna se ci sta guardando. Anna, adesso ti chiama, no? Per carità sulla politica, lei è molto fiera, anzi, quanto sei brava, quanto sei brava, sì. Però ancora adesso ti chiama e ti dice, amore l'ho visto al telegiornale, guarda, è brava, sei brava, eh. Però date una truccata che sembri un rospo, così, eh. Cioè lei è sempre così. E Giorgia invece quando ha capito che era una bella ragazza? Mai. Perché no? No, io non diciamo non... Cioè mi gestisco, ecco, non ho puntato su questo, mettiamola così, insomma ho altre doti, ecco. Ma non sono mai stata particolarmente complessata, nonostante abbia tutta la vita. Cioè la parte di fisicità, la parte di esuberanza, la parte modaiola, non esiste proprio? No, non esiste per carità, anche a me piace mettere un bel paio di scarpe col tacco quando è l'occasione, mi piace truccarmi bene quando è l'occasione, però insomma non è, non ho mai puntato su questo, non ho mai sofferto particolarmente i miei limiti, ho combattuto tutta la vita con la dieta, ecco, con la linea, questo tema del rischio sovrappeso, ancora oggi io per comunque essere non esattamente, insomma, questo fisico, mi alleno quattro volte a settimana, sto a dieta cinque giorni su sette, cioè insomma ci ho combattuto tanto per stare a mio agio, ecco, ma non per strafare, perché quello non c'è poco da fare. Comunque l'importante è di ripetere che appunto uno lo fa per se stessi e non per gli altri, cioè che non siamo noi a essere sovrappeso, sono loro a sbagliare. No, ma infatti il punto è come stai tu, chiaramente, però ovviamente non è che lo dico, adesso io l'ho scritto chiaramente in maniera provocatoria sul libro, non per dire che i bulli fanno bene, ovviamente, per dire semplicemente che tutto quello che accade nella tua vita, compresa la cattiveria degli altri, compreso il dolore, compresa la sofferenza, puoi trovare un modo di volgerlo a tuo favore, perché può produrre una tua voglia di reagire, di migliorarti, di superare i tuoi limiti, di gettare il cuore oltre l'ostacolo, che diventa una ricchezza. Alla fine noi cresciamo così, perché se vivessimo in una campana di vetro con tutte persone buone che ti dicono sei buono, sei bravo, andrà tutto bene, se andasse tutto bene, tu cresceresti male, perché la sofferenza ti serve nella vita, e quindi ti serve anche chi te la procura, per paradosso, non vuol dire che questo giustifica chi te la procura, vuol dire che la fine d'aiuta anche questo. Secondo me è molto interessante per quello che è il suo carattere, che ho letto nel libro, perché il libro l'ho letto questo fine settimana, oppure l'ho sottolineato, è molto interessante, è scritto bene. Spero che non mi detesti per questo, ci mancherebbe. No, no, per me è un piacere approfondire, poi approfondire le vite degli altri è proprio la cosa più bella che mi capita nella vita. E poi c'è l'altro elemento importante per il suo carattere, che è la figura di papà. Papa Franco, che lascia sua madre prima ancora che lei nascesse, mi sembra di capire, insomma, e che poi a un certo punto decide di andare a vivere alle Canarie. E voi andavate da bimbette a trovarle, a un certo punto questo Papa Franco le dice, a me non mi interessate più. Se lo ricorda come glielo dice? Eh, me lo ricordo bene. Me lo ricordo bene, ma diciamo, non vorrei non entrare proprio... Perché no? No, beh, perché, tra l'altro lui non c'è più, per cui penso che non sia manco giusto più di tanto per una persona che non si può difendere, no? Una cosa è raccontare il contesto, una cosa... Però diciamo che il concetto era, insomma, lui si era risposato, per cui la questione era tra noi e questa sua nuova moglie, con la quale lui ci aveva lasciato da sole, per cui lei, ovviamente, non eravamo figlie sue, eravamo pure due bambine, diciamo, esuberanti, esuberanti, e lui se l'è presa e disse una cosa, tipo, il concetto era più o meno, non voglio litigare con lei, perché comunque nelle mie priorità, insomma, lei viene prima. E io ho pensato, avevo undici anni, ho pensato, dico, devi essere pazzo a dirlo, ce lo puoi pensare, e lo pensi, lo sappiamo tutti che lo pensi, perché altrimenti non staresti, no? Ci vedi, boh, due settimane l'anno, tre settimane l'anno, adesso neanche ricordo, ma dirlo. E quindi io ho detto, non ti voglio vedere mai più, e non ho visto mai più. Lui non ha fatto nulla per tentare di riconnettersi? Quando eravamo più grandi, quando dopo i 22-23 anni, sì, mia sorella infatti l'ha rivista, e io no. E come lo disse alla mamma? Cioè, lei, Giorgia, come l'ha raccontato, non lo voglio più vedere questo, calare la sera cinesca, che è un atto molto forte per una bimba di undici anni. Non me lo ricordo, sinceramente, ma i rapporti tra loro erano parecchio usurati, per cui non c'era la complicità che rimane spesso tra le coppie anche che si separano. In questo caso, loro credo non si parlassero proprio, per cui non credo che mia madre, insomma. E quando, vede, capiva che suo padre, insomma, non era una figura paterna tradizionale, le è capitato di provare rabbia o magari anche di sentirsi in colpa perché c'era qualcosa di sbagliato in lei? Eh, questa è una domandona. Allora, rabbia, beh, da ragazzina sicuramente io ero molto più chiusa di adesso. Molto. E quindi sì, forse una forma di rabbia c'era. Però io le devo dire la verità, io ho fatto i conti molto da grande, cioè quando ero già parecchio grande, con l'assenza che mio padre ha prodotto nella mia vita. l'ho negata. L'ho negata. L'ho negata. Allora, mi ricordo un certo, mi sa che anche questo l'ho scritto. Mi sono interrogata, per esempio, per tanti anni sulla mia relazione con il genere maschile. Esatto, questa è la mia domanda successiva. Uno come fa a fidarsi degli uomini? Eh no, infatti, no, ma più che altro con il fatto che spesso magari io mi sono persa per persone che obiettivamente non avessero questa grande, cioè che non avevano, chiedo scusa, questa grande, così, no, poi se li guardavi un po', sembra la cristallizzazione dell'amore di Proust, non so se no, la cristallizzazione dell'amore, dice noi quando ci innamoriamo, Odette, quando noi ci innamoriamo di qualcuno, per una che non manco mi piaceva, ecco. Lui dice, quando noi ci innamoriamo di qualcuno, come se prendessimo un pezzetto di legno, se tu metti un pezzetto di legno nel sale, lo lasci lì qualche settimana, esce un cristallo, e tu lo vedi come un cristallo, ma è sempre un pezzo di legno. Era il concetto di Proust, che in effetti è quello che noi spesso facciamo quando ci innamoriamo di qualcuno, tu lo vedi come un cristallo, ma quello è un pezzo di legno. E quindi a un certo punto, quando capisci che è un pezzo di legno, E a lei questo che era capitato, è capitato. E io ho avuto, c'è un qualche pezzo di legno. Un qualche pezzo di legno in giro. Diciamo che sono... E non capivo perché, no, questo fatto di, ecco, un po' la sindrome dell'abbandono, di non riuscire a... Poi un giorno guardavo un filmetto di buoni sentimenti, ma non saprei neanche il titolo, le dico la verità, che però mi ha proprio illuminato, e a un certo punto ci sono questi due ragazzi che parlano, lei parla con il suo amico maschio e gli dice ma perché io mi innamoro di tutti questi che non valgono niente? E lui gli dice noi accettiamo l'amore che pensiamo di meritare. E questo effettivamente... Era quello che era successo a lei? Beh, potrebbe. Perché l'alfabeto affettivo paterno era quello? Cioè il fatto che tu, bene o male, sia stato rifiutato, quando sei così piccolo, comunque ti fa partire cioè da un gradino, da qualche gradino più giù, no? E' come se tu dovessi sempre recuperare questo bisogno che io ho avuto tutta la vita di accontentare le persone che avevo intorno, no? Che credono in me, Questo mio senso di responsabilità, questo fatto che devi essere sempre perfetto, questo fatto che devi fare sempre più degli altri. E non arrivi mai, cioè non fai mai abbastanza, come se non facessi mai abbastanza. Ti riposi un giorno dopo tre anni e dici oddio perché ero stanno... Ah, che posso fare oggi? E poi dici, Gio, calma! E forse però è figlio di questo, alla fine, no? Cioè di un po' il combinato di sposo tra mio padre che ti rifiutava e mia madre ha fatto la parte nobile con tuo, quindi proprio stavi... Cioè stavi messo un po'. Meno male che c'erano i nonni però, eh? No, i nonni invece, grandi concessioni, se non fosse stato per quel problema delle merendine, che mi ha devastato il metabolismo. però i nonni sono sempre figure alleggerenti, no, nella vita? Con noi sì, con noi sono stati proprio adorabili. con mia madre è un po' più rigida. Ma con l'ultima domanda su papà perché poi dice anche questa cosa non ho provato dolore quando è morto, ho provato solo indifferenza e non ne sono fiera, non mi fa piacere. No, mi ha fatto per paradosso male questo. Ecco, e... Non riuscire a provare un'emozione, no? L'anestesia di questa figura è come la rimozione, no? Sì, è come se tu a un certo punto, penso che la dinamica sia stata che... è un po' come quando scatta un salvavita, no? C'è una cosa che ti fa talmente male, ma per quello io non sono riuscito a rivedere mio padre. Quando poi sono cresciuto e appunto lui si è ripalesato, una parte di me avrebbe voluto, no? Meno male è tuo padre. È come se proprio fisicamente ci fosse... La difesa. Ma è un po' proprio un muro. Un blocco. Non ci riesco. Quindi evidentemente c'è stata una forma di difesa da ragazzina che ha preso, ha scavato un bel pozzo, ci ha infilato dentro questa cosa, ha sotterrato, sotterrato, sotterrato e quindi è rimossa. Come se una persona non fosse mai stata reale. È molto comprensibile e lo ha perdonato? Sì. Non ho, guardi, non ho nessun tipo di... veramente anche di emozione negativa nei confronti di mio padre. Non ho rimostranze da fare. Certo non ne ho stima. Non ho mai avuto stima di mio padre. Però questo è un altro fatto. Insomma, l'odio è un'altra cosa. Insomma, una cosa che si riserva ad altri contesti è disistima e indifferenza fondamentalmente. Questo ha guito la parte maschile che è lei, cioè tirar fuori una parte più... voler essere tutte e due le cose, anche voler essere anche un padre di se stessa? Non lo so. Non me lo sono mai chiesto. Siamo su psicanalitico un livello, però... È un'intervista di livello perché queste sono domande che non mi sono mai fatte neanche io che me ne faccio tante. Dopodiché, sì, ma certo, devo dire questo è il mio... Beh, il bisogno di... Allora, il bisogno di essere all'altezza degli uomini è forse è questo. Cioè, io mi diverto a competere con gli uomini. Comuni. Su tutto, dal go-kart alla politica, io devo... Cioè, devo vincere. E in effetti anche questo è un po' da squilibrare. No, ma insomma, non è quello che si è. E anche questo... Poi scarichiamo tutte le responsabilità su mio padre. No, no. Però anche questo potrebbe essere sempre... A me non mi sembrava che scarica le responsabilità. No, assolutamente. No, 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 me le assumo tutte. Però potrebbe essere anche quello il fatto di farsi accettare dalla figura maschile, no? Perché sei un maschile che non hai... Per il quale non hai avuto stima a quel punto devi essere... Esatto, la gran parte dei miei migliori amici sono maschi. La gran parte... Cioè... Però... C'è questo fatto. Allora, due punti. Allora, due cose. Prima voglio vederla che canta perché dopo tutte queste parti un po' così... Ma è mica nel senso che canto qui? Lei canta? No, no. Dove canta? Abbiamo una clip meravigliosa dove canta con Dejan di Radio Rock. Giusto? Sì? Ah, sì. Perché so che visto che le piace cantare ci abbiamo pure gestica qui. Mi sarebbe piaciuto tanto. Alleggeriamoci anche un po' noi. Dai, vediamo. Tantissimo. Però sono... È Daltanius che ci aiuterà Superbalestra, frecce, spada, lame, boomerang I stupidi aiutai, deboli Dagli invasori ci li difenderà Tu si sacrifica Lo sa che è l'ultima Speranza dell'umanità Questo è l'ombelico del mondo L'ombelico del mondo È qui che si incontrano facce strane Di una bellezza un po' disarmante Pelle di ebano Di un padre indigeno Occhi smeraldi come il diamante Facce meticce di razze nuove Come il millennio che sta iniziando Questo è l'ombelico del mondo E noi stiamo già ballando Angeli ballano in rock Ora tu non sei un sogno Tu sei Spera Viva la mamma perché se ti parlo di lei Ho uno strano cappello E mi faccio a pennello Chi con tutti che sono pupa Virchina Troppo pupa Piaccio così Avete devastato la mia carriera musicale Prima che partisse Io le devo dire Meloni Qua ci abbiamo Remigi e Morlachi Lo so Molto male Quando avrà un momento Se lei vuole Viene Remigi Le fa delle lezioni Possiamo Morlachi pure Aiutatemi Quando vuole Guardi veramente La distanza tra il mio desiderio di cantare E la mia possibilità di farlo È siderale Mi aiuti lei La sigla nostra sarà Giorgia Tutto si fa per te Tutto Pur di piacere a te Questo potrebbe essere Fantastico Ma è sempre una canzone giusta per tutti Allora Meloni Per amici maschi C'è però un'amica Sì Ce ne sono diverse Nel libro Che si chiama Milka Ok C'è qualcosa che le vorrebbe dire Che non le ha mai detto? Ma tendenzialmente le dico tutto Anche se lei è una persona Diciamo poco Inclina ai sentimentalismi Milka È simile a lei allora? No io molto di più Ah sì? Sì sì ma io sono molto fisica Per esempio nei rapporti Sono a braccio Vabbè prima del covid Di più ma insomma Braccio bacio Milka non ti dà un bacetto Neanche proprio Eh mo glielo diciamo subito Però le voglio dire Ora le diciamo Glielo diciamo subito Milka eccola qui Ma che sta lì? Ma sta lì fisicamente? Eh sì è collegata Succede la televisione Meloni è collegata Dammi la foto del giornale Voglio vedere che ve La foto te la dà Eccola guarda guarda L'è emozionata Milka Vedi che è più sentimentale Di quanto sei Da più di vent'anni Conosciuta in sezione Quindi anche lì Conosciuta in sezione Principale compagna di vacanze Milka Niente Qual è la cosa più buffa Che avete fatto insieme Mi hanno raccontato Di un viaggio a Formentera Che cosa abbiamo raccontato Allora sì Diciamo Di un viaggio a Formentera Milka No Raccontato irraccontabile No ma non c'è niente Di irraccontabile Eh qualcosa raccontatemelo però No vi siete divertite Allora no Due ragazzi Allora io arrivai senza valigia Come senza valigia Sono arrivata senza valigia Mi hanno perso la valigia Lo scalo E quindi non c'avamo una lira Perché avevamo speso tutto Per arrivare a questa Formentera Un euro E quindi sono stata Per una settimana buona Vestita con dei parei Con dei pareo Che io mettevo il giorno Per il mare La sera Per il rapito Da sera Il pomeriggio Come gonna Sti parei Lerci A un certo punto Eh vabbè Sì Come andava La cosa divertente Di questo viaggio Fu che Vai vai Scusa mi ti ho interrotto Fu che per arrivare E facemmo il giro Facemmo il giro D'Europa Cioè per arrivare A Formentera Ci vuole un Un volo aereo Magari su Ibiza E poi Formentera Mentre invece Per risparmiare 50 mila lire Dell'epoca Facemmo Roma Nizza E lì si perse La valigia di Giorgia Nizza Barcellona A Barcellona Prendemmo un traghetto Notturno Posto ponte Dormendo fuori Un freddo Micidiale E per arrivare A Ibiza Da Ibiza Abbiamo preso L'ultimo traghetto Finalmente siamo arrivati A Formentera Ci potevamo andare In Papua Risparmio 49 mila lire Ma si facevano queste cose Cioè i ragazzi L'abbiamo fatte Abbiamo fatto tutti questo Ma vi è mai capitato Di essere che so In conflitto Per un ragazzo Che entrambe piacesse Lo stesso ragazzo No Ma perché vi piacevano Ragazzi differenti Ma io e lei siamo proprio Mondi differenti Ah ok No Milca proprio Cioè Milca proprio che Giorgia non abbiamo mai No lei se non sono bruttissimi Non li guarda proprio Non è vero Io invece tengo Tengo più No no sto scherzando Mai successo Consiglio Ma è vero Milca Che conserva ancora un foglietto Conservi ancora un foglietto Di un consiglio Che le ha dato Giorgia Di che si tratta? Sì Ma tipo Santino della Madonna È un portafoglio Io e Santino della Madonna Nel portafoglio Insieme anche a qualche E che consiglio è? Insieme anche a qualche fotografia Era Beh lei appunto E quello è un foglietto Forse Giorgia non se lo ricorda No Poi Giorgia te lo faccio rivedere Un foglietto che risale A una ventina di anni fa In cui lei mi diceva Che lei era fiera di me E che avrei dovuto esserlo anche io Perché io insomma Ero un po' giù Per alcune vicissitudini Sì perché Milca Sull'autostima Lo porto sempre Deve lavorare ancora Capito? Milca Sull'autostima E quindi fra le due La pusher dell'autostima È stata Giorgia No Dipende dal momento Facciamo a momenti C'è nel senso Quando sta giù Una l'altra diventa la pusher E quando è via discorrendo Però sicuramente lei Sì Sì è reciproco Esatto Adesso andiamo a momenti Però quest'anno mi ha fatto Il calendario dell'avvento Milca Addirittura? Sì Con quali foto? Io sono una grandissima appassionata Di calendario dell'avvento Che sono splendidi Le finestrelle che si avrono Di tociare il cioccolatino Il regaletto Il calendario dell'avvento Proprio lo amo Infatti l'ho fatto a mia figlia Eccetera A me muova mai nessuno Io lo faccio Quello Quell'altro L'ho fatto a Andrea Niente Milca È arrivata a me No anche mia sorella Devo dire a Milca Con i bigliettini Con i cioccolatini Che si è mangiato Tutti mia figlia a Ginevra Perché neanche uno non mangiava Però c'erano i bigliettini Eppure io l'ho conservati tutti I bigliettini di Milca È forte È forte Milca E poi c'è quell'episodio Di quando andavate in giro Che l'era ministra Giusto? Guidava la macchina Ah sì Beh sì Io Anche un po' per stare insieme Io l'accompagnavo Ancora oggi L'accompagno da qualche parte Perché è un momento Per chiacchierare E cantare in macchina Perché Giorgia Cantiamo in macchina Un po' una tragedia però E arrivavamo nei posti Ma avete rovinato oggi Con quelle clip Arrivavamo nei posti Ho fatto di meglio In altri programmi Scusami È vero Confermo È vero Arrivavamo nei posti E mi correvano Ad aprire lo sportello a me E io invece dicevo No Il ministro Scenda ministro Gli facevano a lei Scenda ministro Allora facciamo subito Il giro della macchina Scenda ministro Lei la macchina La può mettere lì Il ministro Guardi il ministro Sarei io Io ero quella che guidava Scenda ministro Lei vada a parcheggiarama C'è un'ultima cosa Che voglio chiedere a Milka Perché nel libro Lei scrive Sono stata per tutta la vita Talmente concentrata Sul dover svolgere bene Il mio compito Che a volte mi pare Che la Meloni Occupi tutto lo spazio Di Giorgia Ogni tanto mi chiedo Cosa ti andrebbe di fare E mi capita Di non riuscire A dare una risposta Milka Cosa le facciamo fare a Giorgia Visto che la conosce così bene Che le piace fare Prendete un impegno Di leggerezza qui Beh Le cose Le cose semplici A noi ci piace fare Le cose semplici Anche starcene insieme Appunto magari Una serata Veramente le cose semplici Purtroppo c'è poco tempo Ultimamente Per farle Suggerisco delle vacanze Quindi basta anche Non so Le vacanze Un aperitivo In riva al mare Con un po' di musica Sono anni Le vacanze Le vacanze Facciamole fare le vacanze Brava Brava Che bella risposta Sì sì Allora Il nostro tempo Sto andando avanti Vacanze al mare Vacanze al mare Va bene Milka Grazie davvero Di essere stata con noi Quando noi portiamo Esempi di donne Che si vogliono bene Di sorellanza Sono sempre felice Perché l'amicizia Veramente L'amicizia fra donne Poi è il vero salvavita Della vita Secondo me È proprio una di quelle cose Che ti cambiano la vita L'amicizia in generale L'amicizia in generale Sì quella fra donne Prima di andare Allo specchio Io sono stata fortunata In questo Ma gli amici Possono riempire Qualunque genere Anche gli amori Spesso Brava Parliamone Brava Ho due domande politiche Prima dello specchio Una Ma chi è il suo specchio? Dopo ci andiamo E tanto abbiamo entrati Con lo specchio Allora Vabbè le aperture Le abbiamo viste Però una cosa Sono curiosa Le candidature Per le amministrative Bertolaso A quanto ho capito Non accetterà Si fanno i nomi Di Buongiorno Di Gasparri E di Lupi Vermilano Allora Che Bertolaso Non accetterà Ancora Non è notizia Nel senso Che gira la voce Ok No no Siamo ancora No Io gira questa voce Che lui non accetterà Ma formalmente E io ci ho Mi sono scritta Gli sms Qualche giorno fa Non ha ancora Declinato E quindi Aspetterei Dopodiché Se Bertolaso Dovesse declinare Come ha declinato Albertini Io penso Che ci si debba Vedere Perché di nomi Ma perché non vi vedete? Io lo sto chiedendo Da Da diverso tempo Abbiamo tutti Molte cose da fare Sicuramente Però insomma Penso che ci si possa Vedere Confido che Che insomma Che Salvini Convochi un tavolo Nei prossimi giorni E penso Francamente Che sia molto più intelligente Fare questo dibattito Lì Piuttosto che farlo Diciamo Via media Perché Qualsiasi sia il candidato Di nomi autorevoli Ce ne sono tanti Con questo Battage Si Si locorano Insomma Non si aiutano Quindi lei non me lo vuole dire Adesso No Altra cosa Ha fatto un'intervista Domenica con Lucia Annunziata Nella quale Fra le altre cose Appunto ha detto Insomma Si è detta In qualche modo Disponibile A una premiership Ovviamente fa politica Da una vita Il suo partito Vale sempre più Vale sempre più Nei sondaggi E quindi Diciamo Ha manifestato La sua legittima aspirazione A diventare anche premier Giusto o no Ma per la verità Io non ho manifestato Una legittima aspirazione Queste sono le classiche notizie Che in Italia Diventano notizie D'annunziata Dice No non c'è niente di male Ma io non ragiono così E quindi mi dispiace Diciamo quando Per carità Io ho detto E ripeto Faccio politica Dove arrivo Lo decidono gli italiani Non sono Non sono una persona Che si pone mai Obiettivi carattere personale L'unico obiettivo Che mi pongo sempre io Come si sa E fare al meglio Quello che devo fare Perché oggi Maria Stella Gelmini Dice Sicuramente Fratelli d'Italia Oggi è un partito competitivo Per le regole del centro-destra Noi abbiamo sempre detto Però perché oggi Maria Stella Gelmini Dice Ho molta stima di Giorgio Donna in gamba Che ha fatto un grande percorso Ma la scelta di Forza Italia e Lega Di imboccarsi le maniche Per tirar fuori il paese Dalla crisi Avrà un peso Quando si dovrà individuare Il candidato premier Non so cosa intenda Maria Stella Gelmini Secondo le regole Che noi ci siamo sempre applicati Il diciamo In caso di vittoria Del centro-destra Il premier Lo esprime il partito Che nella coalizione Ha preso più voti E se le regole Si vogliono cambiare Qualcuno si palesi Insomma Perché finora Sono valse quelle regole lì Per cui io per questo Stando a queste regole Ho risposto Alla notizia Alla domanda Di Lucia Annunziata Ieri E qui ho detto Semplicemente Guardi questo non lo decido io Lo decidono gli italiani Secondo le regole del centro-destra Sicuramente io sono una persona E si assume le sue responsabilità L'ho sempre fatto E perché Gelmini Secondo lei dice questo Come se ci fosse una preclusione Sul suo nome Vabbè ma io penso Che sia anche un fatto Diciamo Noi non abbiamo mai chiuso La partita così Non c'è mai stato Un candidato premier Prima che si iniziasse La campagna elettorale Si decide la fine Abbiamo detto Per cui è normale Che ciascun partito Si riposiziona Diga ma no vediamo Vediamo Io devo mandare la pubblicità La parte più bella Dell'intervista Però arriva dopo Sarà breve Perché Meloni ha anche da fare Però andiamo allo specchio Quindi pubblicità E poi The woman in the mirror Meloni in the mirror Grazie a tutti 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 La conosce da sempre Chi può essere Mia sorella Arianna Ciao mia sorella Allora qui mi chiedono Mi chiedono di raccontare E' un po' di rinforzare 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 Quando tu hai Questo è un problema Che io comincio ad avere Anche con mia figlia Anche se mia figlia è piccolissima No? Però quando hai Dei ragazzi giovani Con cui ti confronti Intanto sono generazioni Che corrono estremamente veloce Hai sempre il problema Di dire Ma saranno fieri di me? Allora All'altra volta Sono andata A spulciare L'instagram Di mia figlia grande E ho scoperto Che non mi seguiva E seguiva Biden Di mia nipote grande Che ho scusa Di Vittoria E non mi seguiva su Instagram E seguiva Biden E ho detto Vittoria Siediti un attimo Amore di zia Tu quoque Che cosa Tu quoque Mi tradisci così con Biden Invece no Dice no Zia Ma si è inventata Tutte le cose Senza senso E quindi sono molto contenta Che abbiano fatto questa cosa Perché La bimba abbandonica Le nipote Io cerco sempre Di non infilarci la politica Chiaramente Perché Sono troppo giovani No Però Poi sai Magari Gli amichetti TikTok Cose Io ecco Sono sempre un personaggio Tanta gente mi vuole bene Tanta gente mi contestano Ho paura che poi In qualche maniera Te le Vengano Possano essere coinvolte Sì Possano essere coinvolte Allora abbiamo parlato Non abbiamo parlato Quasi per niente di Ginevra L'ultima slide è dedicata a lei Ovviamente Poi ci salutiamo Meruni A te che mi hai insegnato i sogni E l'arte dell'avventura A te che credi nel coraggio E anche nella paura A te che sei la miglior cosa Che mi sia successa A te che cambi tutti i giorni E resti sempre la stessa A te che sei Semplicemente sei Sostanza dei giorni Miei Sostanza dei sogni Miei Non riuscirà a farmi piangere Glielo dico subito No no ma tanto ho già pianto Quindi non c'è problema Se abbiamo Non piangerò Ma piangere fa anche bene però Beh Sì vabbè ma insomma A un certo punto diventa anche stucchevole Che devo fare una volta ogni dieci anni In televisione Allora intanto io penso Abbandoniamo questo controllo Io penso che Qualunque donna Qualunque mamma lavoratrice Qualsiasi mamma lavoratrice Si senta in colpa Verso i propri figli Però i maschi Non si sentono mai in colpa Ma i maschi I maschi hanno un altro Diciamo un altro approccio Per una madre Diciamo quando io appunto L'ho già detto Quando torno a casa E qualcuno E scopro che mia figlia Ha imparato una cosa nuova Ha fatto una cosa nuova Quando diceva le prime parole Quando E lei te lo fa vedere Ma non gliel'ha insegnato tu La prima volta che l'ha fatto Non l'ha fatto con te E te lo perdi E bene o male Intanto per te Non te lo ridarà nessuno Questa roba qui Non te la ridarà nessuno Arriverà un giorno In cui i tuoi figli Quando tu ti avvicini E tenti di baciare Diranno Ma no Comunque avranno La loro vita Invece loro sono ancora In una dimensione Nella quale Tu sei il loro mondo Sei il loro centro Qualsiasi cosa loro facciano La devono fare vedere a te Non a un altro Ai amici A te E tu non ci sei E quindi questa è una cosa Che chiaramente A me fa male Perché non tornerà E ho paura Che faccia male anche a lei Perché Perché non è che io non ci sono mai Io mi sono data Tutte delle regole Che racconto nel libro Faccio le cose la sera Mi tengo almeno Cerco di tenermi almeno Un giorno a settimana libero Insomma L'accompagno a scuola La mattina Però rispetto alle altre mamme Io esco alle otto E rientro alle nove E tutto il resto Il padre Quando è a Roma Ci passa molto più tempo di me E infatti lei ormai Pa 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 Con Andrea Ha preso l'iniziativa Questo bel ragazzo Conosciuto in uno studio televisivo Eh diciamo Ho preso l'iniziativa Aspetti a questi Dai su Messaggino Messaggino Messo lì Innocuo Innocente Per vedere Certo tono Amo Amo Lanciato E' andata bene Abboccato C'è un'ultima frase Che voglio leggere Perché era molto colpito La disciplina è stata La mia benzina Ma anche la mia gabbia Il grande paradosso Della mia vita E' che per costruirmi La libertà Di essere la donna Che voglio essere Di fare le scelte Che voglio fare Ho rinunciato A ogni altra libertà E' così Io volevo Io non volevo Dipendere da nessuno E ho finito Per dipendere da tutti E' così Lo rifarei Probabilmente Lo rifarei Anche perché non è finita Anche un po' meno Sono una persona Che è fiera Delle scelte Che ha fatto Però oggettivamente Volevo essere libera E politicamente parlando Lo sono Personalmente parlando Assolutamente no Si sente una donna felice? Non ho mai capito Cosa sia davvero La felicità Non l'ho mai Acchiappata L'ho acchiappata Per qualche Proprio frazione distante E probabilmente Esiste solo così Sono Diciamo serena In questa fase Della mia vita Grazie Giorgia Meloni Per questa lunghissima Intervista Davvero Le dico solo una cosa Che è molto carina Ma veramente È proprio un consiglio Affettuoso Una roba affettuosa Che a me è rimasta Molto impressa Wonder Woman È la peggiore nemica Delle donne È vero È vero Può accomodarsi qui Grazie Arrivederci Andare a salutare Come il pubblico E le auguro Buon vento Arrivederci Memo Mi raccomando Con la musica E le auguro